Siamo in Danimarca, a Kalumborg, a un centinaio di chilometri da Copenhagen. E questo è il grande stabilimento dell'azienda farmaceutica danese Novo Nordisk. Sta diventando ancora più grande, un investimento da 6 miliardi di euro. E nella cittadina di Kalumborg arriverà persino l'autostrada. La ragione di questa incredibile espansione è che la Novo Nordisk sta guadagnando moltissimi soldi dopo aver lanciato sul mercato, poco più di un anno fa, un farmaco rivoluzionario per curare l'obesità. Chi lo prende dimagrisce, perde chili, subito e tanti. Più di quelli che si riuscivano a perdere con qualsiasi altro farmaco precedente. Fino al 20% del proprio peso. Niente palestra, niente sudore, ma un'iniezione alla settimana e il grasso sparisce. Novo Nordisk produce farmaci per il diabete da più di cent'anni. È stata la prima azienda in Europa a commercializzare l'insulina, quando ancora si estraeva dai maiali e dalle mucche. E oggi ne mette sul mercato la metà di tutta quella in circolazione nel mondo. Ma a fine 2022 la sua storia ha preso una svolta che in pochi si aspettavano. Tutto grazie a quest'uomo, Jens Juhl Holst, classe 1945, professore di fisiologia medica all'Università di Copenhagen, consulente per anni della casa farmaceutica e uno dei massimi esperti di diabete al mondo. La migliore di tutte è quella medaglia lassù, la medaglia Benting. È il premio più importante che si possa ricevere per la ricerca sul diabete. Holst è stato tra i candidati al premio Nobel per la medicina, perché ha fatto una scoperta rivoluzionaria, un ormone speciale che si chiama GLP1. Abbiamo somministrato questo ormone a dei pazienti diabetici e la loro glicemia è scesa a valori completamente normali. È stata una scoperta fantastica, perché da quel momento in poi abbiamo sviluppato farmaci che imitavano l'azione di questo ormone per trattare il diabete. Ma abbiamo anche lavorato sull'altro effetto di questo ormone, la riduzione dell'appetito e quindi dell'assunzione di cibo. E dal farmaco per il diabete nasce così quello per gli obesi, che fa subito il botto di vendite. L'anno scorso le vendite sono state di circa 120 milioni di euro. Hanno fatto schizzare del 25% in più le vendite di tutti i farmaci in Danimarca. Ad un anno dal suo arrivo, il nuovo farmaco antiobesità, oltre che in Danimarca, è già sul mercato negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei. Mentre tanti altri, tra cui l'Italia, sono ancora in attesa, perché l'azienda non riesce a star dietro con la produzione alla richiesta che cresce sempre di più. Dobbiamo limitare i nostri volumi in questo momento. La domanda per il farmaco è troppo grande. È la prima volta che succede. Grazie al farmaco della magrezza, la Novo Nordisk è diventata una miniera d'oro, con un fatturato che ha superato i 30 miliardi di euro nel 2023 e vendite aumentate del 36% in un solo anno. Una crescita talmente esplosiva da aver cambiato l'economia dell'intera Danimarca. Questa è la Danske Bank, la più grande banca della Danimarca. E lui è il direttore, l'economista Jens Pedersen. Se non avessimo avuto Novo Nordisk, saremmo al pari di molte altre economie europee che non sono cresciute molto nel 2023. Alcune sono andate addirittura in recessione. Ma grazie alle vendite di Novo Nordisk, la nostra economia è cresciuta intorno all'1% l'anno scorso. Ed è la prima volta che la crescita di un'azienda ha aumentato il PIL di un intero paese. La crescita della Novo Nordisk ha fatto saltare anche gli indici della borsa danese. Hanno dovuto limitare il peso di Novo Nordisk nell'indice generale. Altrimenti ci sarebbero stati solo loro. Ecco quanto sono grandi. Talmente grandi che per stare dietro alla crescita di Novo Nordisk, la Danimarca ha dovuto cambiare persino la propria politica monetaria. Novo Nordisk esporta molto, soprattutto negli Stati Uniti. Significa che ricevono molta valuta estera e quando la convertono in corone danesi, il valore delle corone sale troppo. È dovuta intervenire la banca centrale danese che ha fissato tassi di interesse più bassi rispetto a quelli della banca centrale europea per garantire la stabilità della valuta. Che cosa significa per l'economia reale? Pensiamo per esempio ai mutui. Senza l'intervento della nostra banca centrale sarebbero cresciuti. E sul mercato della cura dell'obesità ora ci vogliono entrare tutti. Come ci racconta il giornalista Soren Linding, editorialista di Finance, uno dei maggiori giornali economici danesi. C'è già un'azienda americana, Elie Lillie, che ha lanciato un farmaco simile contro l'obesità. Alcune proiezioni dicono che è un mercato che vale intorno ai 150 miliardi di euro. È davvero il mercato su cui puntare in questo momento? Sì, perché ci sono più pazienti che farmaci. Normalmente succede il contrario. Si inventa un farmaco e poi si cerca di promuoverlo e di dire a tutti i medici di base che è un farmaco fantastico. Qui sta accadendo l'esatto contrario. Sono i pazienti che vanno dal medico e gli dicono questo farmaco è fantastico, lo vogliamo. Non ci importa che sia rimborsato dallo Stato o dalle assicurazioni. Paghiamo di tasca nostra. Non era mai successo prima. La crescita della domanda del farmaco è così impetuosa da mettere a rischio i conti delle assicurazioni sanitarie private. Zucker for Sikringen Denmark è la più grande e assicura quasi la metà dei danesi. A partire da gennaio 2024 ha smesso però di rimborsare il farmaco. Non riescono più a stare dietro ai costi e anche i conti della sanità pubblica sono messi a rischio dal nuovo farmaco per la magrezza. Questa è la sala dove si riunisce il Consiglio regionale. Lì si siede il presidente. Anne Röth è consigliera del Meet Uland, la regione centrale della Danimarca. Ci racconta che sono cresciuti di moltissimo i rimborsi per il farmaco contro l'obesità. Sono passati dal 20% al 60% del totale. Questo nuovo trattamento ha davvero inciso sul nostro bilancio. Con quali conseguenze? Abbiamo dovuto prendere i soldi da un'altra parte, dal servizio delle ambulanze, per esempio, e abbiamo ridotto il personale sanitario. Addirittura? Sì, abbiamo meno infermieri e personale sanitario negli ospedali. C'è chi dice però che questi farmaci contro l'obesità ci aiuteranno a risparmiare costi sanitari in futuro, perché le persone che li prendono saranno più sane. Sarà così. Il problema è che io devo pagare quest'anno e non ce li abbiamo i soldi. Bisogna assolutamente capire come usare questi nuovi farmaci contro l'obesità. Li devono prendere veramente tutti o per alcuni si possono usare altri trattamenti. Così si rischia che saltino i conti della sanità pubblica. In Danimarca, i medici di base possono prescrivere il farmaco della magrezza basandosi su un solo parametro, l'IMC, l'indice di massa corporea, che misura il rapporto tra il peso e l'altezza. Se è superiore a 30, lo possono prescrivere. Un criterio che copre quasi un danese su 5. Risultato? I medici di base sono stati travolti dai nuovi pazienti che vogliono il farmaco. Sono pazienti che non avevamo mai visto prima, ma soddisfano i criteri. Hanno un indice di massa corporea superiore a 30 Che impatto sta avendo questa enorme richiesta su voi medici di base? Abbiamo un nuovo gruppo di persone che sono sane e ora vengono da noi e hanno bisogno dei nostri servizi. Dobbiamo fare prescrizioni, esami del sangue, visite di controllo e non abbiamo più il tempo per seguire i pazienti cronici. Non solo. In Danimarca c'è un tetto a quanto lo Stato ci rimborsa che è stato già ampiamente superato. Insomma, non eravate pronti? No, questo farmaco è entrato così rapidamente sul mercato che nessuna autorità sanitaria o un medico era pronto. Non abbiamo ricevuto linee guida. Non sappiamo nulla di cosa succede se prescriviamo questo farmaco a persone sane per 20 anni o 30 anni. Chi dovremmo trattare con il farmaco e chi no. Ma le autorità sanitarie non stanno raccogliendo i dati? No, non lo stanno facendo. Nemmeno gli endocrinologi, che sono gli esperti di obesità, stanno prendendo in carico questi pazienti. Perché è tutto troppo nuovo. Non hanno avuto il tempo di fare delle linee guida. Ma davvero l'indice di massa corporea è sufficiente per definire la platea di quelli che hanno bisogno del nuovo farmaco? Torquil Sorensen, professore emerito di epidemiologia all'Università di Copenhagen. Studia l'obesità da più di 30 anni ed è contrario ad utilizzare solo questo criterio. No, non ha senso, secondo me, per niente. Quando si guarda un corpo che ha un particolare indice di massa corporea, potrebbe esserci più o meno grasso. Se hai la maggior parte del grasso intorno alla pancia, allora è più pericoloso. C'è un rischio statisticamente più elevato di ammalarsi e forse anche di morire prima. Sembra invece che il grasso accumulato sotto la pelle sia molto meno pericoloso. potrebbe persino essere innocuo. È quello più comune nelle donne. Se hai molto grasso sui glutei e sulle cosce, allora potrebbe non essere pericoloso. Quindi non basta l'indice di massa corporea per dirti se sei malato o meno. Questo è chiaramente un farmaco utile per un medico che si trova di fronte a un paziente che soffre di obesità e che sta avendo già gravi conseguenze cliniche. Ma appunto, si dovrebbe limitare l'uso del farmaco alle situazioni cliniche accertate. C'è qualcosa che la preoccupa? Non sappiamo ancora nulla sugli effetti a lungo termine. È già successo a diversi farmaci per la perdita di peso in passato. Un'altra cosa è il modo in cui funziona. Chiaramente riduce le dimensioni della massa grassa, ma anche di quella magra. E questa non è una buona cosa. Avremmo bisogno di seguire un numero molto elevato di persone per un lungo periodo per vedere se funziona davvero. E soprattutto dovremmo vedere come va per le persone che sono un po' sovrappeso, ma non malate. Cosa gli succede se prendono questo farmaco per tanto tempo?